In realtà è un progetto che si riconferma, un format che ha avuto molto successo negli ultimi anni, siamo alla quinta edizione. Devo dire è un format che ci chiede la città, un progetto che prevede circa 50 itinerari attraverso la città, attraverso i luoghi del centro, quelli più conosciuti, ma soprattutto attraverso luoghi meno conosciuti e anche della periferia. Ci saranno circa 50, ci saranno illustri, donne e uomini appartenenti al mondo della cultura e dell'arte napoletanica, che insieme alle guide turistiche della Campania, questo è un progetto che costruiamo insieme alle guide turistiche della Campania, che ringraziamo, attraverseranno la città e daranno la possibilità ai cittadini e alle cittadine napoletane di scoprire dei luoghi inediti. La quinta edizione di Innamorati, innamorati di Napoli propone un fotoprogramma di visite guidate gratuite, curate da illustri ciceroni che saranno affiancati da guide turistiche abilitate. Gli appuntamenti sono fissati per la mattina di domenica 16 febbraio e coprono una vasta scelta di luoghi famosi e meno famosi, di interesse assai vario, storico, architettonico, letterario, cinematografico, teatrale, sportivo ed altri. Per prenotarsi basta andare sul sito delle guide turistiche della Campania e seguire le indicazioni. A partire da oggi sarà possibile iscriversi agli itinerari, il programma non è chiuso, è ancora aperto, e quindi il 16 febbraio qui a Palazzo San Giacomo inizieranno gli itinerari e sarà possibile appunto prenotarsi a partire da oggi sul sito guide turistiche della Campania.